e ciao a tutti ragazzi io sono elettro 16 e oggi siamo in un nuovo video della minecraft scp intanto qua c'è eric ciao eric ciao eric comunque raga stranamente oggi nel video di oggi minecraft sta laggando non so neanche io il perché ma perché lucky minecraft cioè ragazze stavo dicendo che minecraft sta laggando vedete tipo eric toy lui è lentissimo tipo ad esempio raga proviamo a togliere la chiave dopo anni c'è non lo so che poi ho notato che sono in questa zona perché in quella zona da quella parte non lagga cioè non so cos'è comunque nello scorso episodio avevo visto la coca cola le sp207 oggi andremo a vedere un altro scp e comunque in realtà lo scorso episodio ha visto giovanna e raga però comunque lag mi sa che è causato da lui lo vedete non so se si nota lui vedete ok allo stavo dicendo lui vedete lo riconoscerete tra miliardo lui laxoloto il blu ovvero quello più raro di minecraft ce n'è anche c'è anche l'altro cugino coso eccolo la e mi sa che è lui che fa laggare perché appena l'ho messo ha tipo laggato malissimo c'è ma mi sa che era anche già prima non so se è lui ma penso di no vabbè comunque l'scp di oggi è quello quello lì che avevamo visto di sfuggita la no vabbè sono scemo il mostro lasca scappa c'è sono andato proprio ad incontro tipo non dirmi che mi sta seguendo ma sicuro mi sta seguendo vediamo vediamo mi sa che l'abbiamo seminato ok buono 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 allora allora stavo dicendo che l'scp di oggi è questo qua che sta sulla scela del 096 ma io non so chi c'è qua ma mi sa che forse qua c'è un scp che è un rettile perché se notate la forma ricorda vagamente un dinosauro un coccodrilo perché questa è la c'è è la testa queste sono zampe questa è la codina piccolina secondo me a che fare con i rettili è una lucertola inoltre ho notato che sul fondo c'è la lava quindi dobbiamo fare non attenzione di più attenzione pronti vai niente siamo morti proprio che poi non capisco perché spavano sempre qua devo togliere la la foresta degli alberi poi morto qualcosa attenzione raga dobbiamo riprovarci secondo tentativo ci riproviamo di nuovo a buttarci nella cella di questo scp secondo voi comunque vabbè che cacchio dico secondo voi perché in realtà avete letto dal titolo allora raga dobbiamo fare così 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 ok vai 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 ok no mannaggia tantissimo raga è quasi impossibile ci riprovo ci vediamo fra poco raga ce l'ho fatta mi sono buttato di corsa e si mi sa che non morirò ok infatti non sono morto codo allora qua c'è la cella si 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 qua c'è la cella qua ci sono altre caverne no qua c'è cico di qua c'è un'altra caverna no buono no buono secondo me no buono che ne sapete che magari nelle caverne sta qualche scp comunque questa è la cella ricorda quella dello shaggy però il materiale è diverso proviamo a vedere che materiale è è un metal planness quello di sopra mi sa che era pipe block mi sa e no perché la texture era diversa comunque apriamo allora intanto questa zona non lagga però oltre a scp 682 ecco infatti io lo sento raga sento un gigante mai no vabbè ma questo è grossi no vabbè che guarda si vede la testa eccolo qua raga 682 dopo anni sono passati anni da quando ti avevo incontrato il rettile immortale o difficile in realtà avevo visto una sincero nella serie di francesco però seriamente non lo vedo da anni sto scp a vi spiego scp 682 che è un scp molto potente è una specie di coccodrillo gigante immortale cioè in realtà si chiama difficile da distruggere quindi non è detto che sia immortale però semplicemente è molto forte ed è difficile da uccidere la fondazione scp inoltre vuole uccidere questo scp perché è una roba pericolosissima il label è scritto tipo bagatino va bene e un'altra cosa che noto è che la porta richiede una chiave di livello scene di livello 5 come la serie come lo scegai qua c'è una po una chiave di livello 5 abbiamo raga abbiamo quante chiavi 3 chiavi di livello 5 e vabbè allora stavamo dicendo che è intanto tipo laggate assurde che è sta roba vabbè allora raga questo è il 682 è contenuto in un cubo d'acciaio però tipo più rinforzato di quello dello shagai perché tecnicamente sto qua era molto pericoloso sia per la fondazione che peraltro che lo mettiamo in questo cubo gigante di lava raga io comunque ho paurina apriamo il cubo eccolo qui ciao 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 mi non mi attacca ma mi sa che ho attirato una laggata assurda solo per dirmi sto messaggio va bene dovrei avere paura ok allora ne avrò lo giuro su santo stefano ma che cazzo c'entra santo stefano vabbè allora raga adesso prima di vedere un po di roba su questo scp intanto abbiamo tolto una lampada se ripiazziamo la lampada qua era mi sa è spacchiamo tutto il cubo perché se no che cacchio lo sperimentiamo che poi io allora questo qua doveva essere contenuto in un cubo d'acido questo è il cubo però l'acido dov'è l'acido non c'è l'acido nella sua cella io raga direi spacchiamo tutto ci vediamo fra poco perché se no qua non finiamo più il video e dura troppo e tante cose varie raga allora sono stavo spaccando cosa mi ha ucciso cosa mi ha ucciso comunque raga mi ero andato anche a prendere la broken tele kill allora raga one shot a sto coso il che non è buono io continuo a spaccare se mi uccide siamo fuori la tele kill ci vediamo fra poco raga sono appena tornato ho sentito un rumore tipo bruttissimo cazzo è successo no raga si è distrutto il cubo noi io non ho fatto nulla quasi di sotto il cubo c'è ancora i blocchi di prima cosa è successo c'è lui ha distrutto la cella ballo entriamo ora è buono se io gli do un pugno un pugnettino signor 682 ma fa qualche no non ce l'ha con me no però mi deve ok allora allora ragazzi calmi tutti abbiamo la conferma che sto qua ci one shot a con un colpo adesso faccio l'ultimo testo vero tele kill secondo voi sto cristiano chiamiamolo così morirà sì no forse secondo me no 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 secondo me o diminuisce la dimensione cioè si rimpicciolisce perché mi sono dimenticato di dire che lui può cambiare la sua dimensione non ce la farò ecco infatti lui può cambiare la dimensione in base a dove c'è si trova c'è cosa se viene danneggiato diminuisce di dimensione se se mangia le persone lui aumenta raga mi sa che io ce la devo fare forza elettro forza siamo tutti con te sarò con te niente non ce la faccio raga ci vediamo fra poco ok raga allora sono caduto per fortuna comunque raga allora vi volevo dire un fatto mentre stavo tornando e spawnata una mano strana che non mi ha uccidere raga è mo' no è raga è mo' io l'ho colpito con la tele ho fatto così è morto no vabbè io non ci c'è per sicuro ho fatto tutto istantaneo perché per sicurezza che ne sapevi che quello mi ammazzava raga allora io direi che per questo video è tutto c'è abbiamo siamo stati con un casino lasciate un bel like c'è ai 682 noi incontravamo da tantissimo tempo abbiamo visto paio di mesetti fa 682 js però comunque non l'avevo vedavamo da molto quindi niente ragazzi qua la zona lagga non so perché è niente da me ovviamente elettroseggi e tutto